Sì, vai con la sigla, uno, due, tre, vai! Forza la linea romita, dai, dai! Notizia importante, tutti devono sapere, dobbiamo fermarli questi qui, vai! Il giornalista Marco Travaglio è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione della pena per aver diffamato l'ex deputato Cesare Previ. Il processo celebrato a Roma riguardava un servizio sul settimanale d'Espresso intitolato patto scelerato tra mafia... Bravo, bravo! Bene! Lo sai perché l'abbiamo fatto, vero? Ma no, ma che cazzo dici? Ma me lo dici in onda? Me lo dici in diretta? Ma vai a cagare, bloccate il TG1, dai! È andato bene, no? Delle cause che vince Travaglio non si deve dire niente. Che Previ ti sia un supercondannato non si deve sapere. Che era solo un primo grato non si deve dire. Ma quanto mi piace a me fare questo TG1. L'anno prossimo faccio il Cilio in generale della settimana in con via! E si va di lusso, eh! Abba sì!